Lunedì mattina il senatore Rino Marinello effettorà un sopralluogo congiunto con due tecnici dell'ANAS per capire le prospettive della viabilità lungo la statale 115 all'altezza della Galleria Belvedere, all'interno della quale da settimane sono in corso lavori di consolidamento che hanno reso necessario il posizionamento di due semafori alternati per disciplinare il traffico. Una situazione che genera lunghi e snervanti incolonamenti di mezzi che mettono a dura prova la pazienza di chi transita da queste parti, compreso e che è costretto a farlo più volte al giorno, come i residenti delle contrade Isabella, Sant'Antonio e Sovareto, da giorni alla nostra redazione giungono segnalazioni di cittadini quali invocano la soluzione del problema. Nella questione nelle scorse ore si è voluto interessare il parlamentare Saccenze Rino Marinello che ha chiesto notizie attraverso il responsabile nazionale dei rapporti istituzionali Lelio Russo, ne è scaturito un impegno ad un tavolo tecnico. Al centro dell'attenzione c'è la necessità del ricorso ad una via alternativa che renderà inevitabile il dirottamento del traffico da e per aggrigento nel centro abitato. In tale direzione si pensa di nuovo al bypass necessario scavalcare la galleria tra la contrada Ferrara e la parte alta della via Alcide De Gasperi. La prospettiva come nota è quella della demolizione e la ricostruzione della galleria Belvedere, così com'è, è diventata insicura. Lo rivelano gli stessi tempi necessari agli operai, pochi per la verità, per il consolidamento con cemento e resina tuttora in corso. Non è escluso dunque che si proceda speditamente verso la realizzazione di lavori urgenti per ottenere sin da subito la strada alternativa. Insomma, a questo punto non si può escludere del tutto, almeno al momento che la galleria venga completamente interdetta al traffico prima che possa essere affidato all'appalto della sua stessa demolizione per la successiva ricostruzione. Non c'è dubbio che ci siano grossi disagi per la popolazione, dice il nostro telegiornale il senatore Marinello, ma è anche evidente, aggiunge, che occorre essere assolutamente certi che la percorrenza della galleria avvenga in tutta sicurezza. Questo tunnel è da sempre particolarmente vulnerabile per le infiltrazioni di acqua. I tecnici di Anas pare che abbiano rilevato una situazione particolarmente critica. Si sta evidentemente valutando se l'intervento tampone tuttora in atto possa consentire di allungare la vita della galleria. È chiaro che se il tunnel non viene più ritenuto sufficientemente sicuro per la pubblica incolumità, bisognerà trovare un'altra soluzione. La questione, come già evidenziato, crea grossi problemi, tanto più che è tuttora disciplinato da un semaforo alternato, anche il ponticello sul viadotto sottobagni. La prima gara per l'appalto dei lavori di ripristino della normalità in data deserta. Ce ne sarà un'altra, a breve, con un investimento di 90.000 euro. Una situazione qui che dura decisamente da troppi mesi, con una disciplina del traffico notevolmente peggiorata, con i lavori sulla galleria Belvedere. Insomma, le modalità per entrare ed uscire da sciacca sembrano davvero tutt'altro che tranquillizzanti.